Venerdì è l'inizio in realtà di questo progetto che si chiama Ossigeno, che è uno spazio pubblico per ragazzi che sarà progettato e vissuto da ragazzi. Pesaro in questo momento non ha luoghi di aggregazione gratuiti che non siano condizionati da altri aspetti commerciali per ragazzi e quindi ho immaginato che su un input che all'epoca ci diede l'assessore Belloni, che il Parco Miralfiore e la Serra degli Agrumi potessero essere il posto ideale per dare una sede pubblica ai ragazzi dove progettare le loro idee. Ossigeno in particolare è un progetto che prevede un percorso di progettazione partecipata da parte di giovani degli spazi del Parco Miralfiore che è così centrale nella nostra città ma spesso oggetto di tanti pensieri e ragionamenti evolutivi. La volontà di partecipazione è sicuramente alta, i giovani del nostro territorio sono già abituati a degli eventi di partecipazione, abbiamo i tavoli under 20, quindi quello che abbiamo voluto fare è stato sicuramente quello di raccontare che questa è una convocazione diversa, un po' meno teorica, che offre delle possibilità di spunti concreti rispetto a quello che insomma emergerà dai tavoli. Noi ipotizziamo circa un centinaio di ragazzi, quello che teniamo a sottolineare è che per noi questo non è un unico appuntamento ma è un primo appuntamento. Sarà un momento in cui noi dobbiamo cercare di estrarre da questa attività di lavoro con i ragazzi un profilo, un profilo ideale di luogo e di spazio per ragazzi con tutte le istanze che ci porteranno, quindi l'abbiamo costruito con il gruppo del forum fondamentalmente. Adesso lo allarghiamo il rappresentante istituto di modo che a Raggera cerchiamo sempre di coinvolgere un numero crescente di ragazzi, quindi per ora abbiamo lavorato con ragazzi che hanno già una certa strutturazione. Dobbiamo andare ad allargare ad altre fasce d'età e anche altri contesti socioculturali e quindi da questa mattina del 24 deve uscire un profilo ideale, cioè di quello che può essere uno spazio anche non fisico ma proprio un'idea che i ragazzi hanno loro stessi delle politiche giovanili strutturali di una città. La domanda che noi faremo sarà quella di, attraverso dei tavoli tematici, un pochino chiedere loro che riflessioni li vengono in mente rispetto a quello che sentono che in questo momento manca nel loro territorio. Attenzione, il fatto che loro sentano come mancanza non significa che sia una reale mancanza, ma noi come adulti dobbiamo comunque raccogliere questo pensiero e farci delle domande per poi poter indagare se effettivamente abbiamo delle mancanze reali oppure dobbiamo lavorare sulla comunicazione, sulla messa in rete dell'esistente che a volte non viene percepito. Quindi saranno delle domande guidate da dei facilitatori. Abbiamo scelto di individuare due facilitatori per ogni tavolo che avranno come tematiche l'ambiente, la cultura, piuttosto che le strumentazioni a cui magari non hanno facile accesso e su questo insomma poi faremo un po' una raccolta con un momento poi anche di restituzione. Ossigeno grazie anche al Garante dei diritti regionale è diventato una realtà. Oggi presentiamo la prima delle iniziative che riguardano questo progetto che si terrà all'interno del Parco Miralfiore ma che sarà un raccordo di tutte le iniziative delle politiche giovanili in città. Un ruolo diverso ai ragazzi, non sappiamo ancora cosa sarà esattamente Ossigeno ma lo costruiremo in base ai loro bisogni, ai loro sogni e anche alle loro richieste. Alcune richieste mi sono arrivate nel corso di questi mesi tramite le scuole, tramite i gruppi giovani informali e Ossigeno vuole essere una prima risposta reale.